Una poltrona per due, una poltrona per accompagnare in Serie A il Palermo e l'Empoli. È una poltrona che potranno occupare il Cesena che cerca la sua quinta promozione in Serie A o in Latina. Lancia la soterra di Viviani, il controllo da parte di Jonatas, prova a calzare la palla respinta e poi messa in calcio d'angolo. Sta arrivando Jonatas, Jefferson, la possibilità del tiro e la palla che termina fuori, incredibile, palla goal, fannita da Latina. E qui palla buona per Jefferson, se ne va Jefferson, Jefferson! Incredibile. Viviani, superato Cascione, prova a Viviani! Sinistro sul fondo, Federico Viviani, approvato da fuori, la palla bassa per D'Alessandro, prova a liberarsi per il tiro, poi affida Cascione! E qui va a riconquistare un bel pallone Garritano, voleva servire Marilungo che va comunque, Marilungo! Sull'esterno della rete, va comunque a cercare la diagonale. Lo spiovente di Coppola, Volta! Volta! 1-0 Cesena! Il gol di Volta, di testa, suo assist di Coppola, vantaggio Cesena! Parte lo spiovente, salta Cascione, e arriva il 2-0! 2-0! Marilungo! Il raddoppio, ancora lui! Ancora Marilungo per il raddoppio del Cesena! Jonatas, va da solo Jonatas, prova a calciare Jonatas! Tre uomini in barriera, parte Renzetti, palla fuori aria, Coppola! Sul fondo, ha sfiorato il terzo gol il Cesena! Morrone, cotta fava, cerca la conclusione, Jonatas! Grande risposta di Coser in calcio d'angolo, sulla girata di Jonatas! Ancora Alassane, Cagliardini scivolata, insiste il ganese, ancora Alassane, prova col sinistro! Sul fondo, il tiro di Alassane! Ha fatto tutto da solo! Cisotti prova a liberarsi, Cisotti! Cisotti rimette in corsa in Latina! Splendido gol di Cisotti! E stavolta neanche Coser ha potuto farci nulla! 2-1! Cisotti accorcia le distanze, Cesena 2, Latina 1, Cisotti! Finisce qui, ha vinto il Cesena! 2-1! I gol di Volta e Marilungo! Poi la rete bellissima di Cisotti nel finale di partita!